ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video in attesa di potervi parlare di tutte le altre mie collezioni iniziando dai robot passando dalle action figure del mondo del cinema eccetera eccetera fino a sforare al materiale giapponese che vi continuo a parlare delle mie ambulanze quindi in questo caso oggi abbiamo come protagonista due ambulanze due pulmini ex pulmini volkswagen il volkswagen t1 e t2 allora il t2 nella colorazione crema originale della croce gialla di ancona era un modello base welly che sono i migliori anche perché oltre le aperture il metallo è molto migliore di alcune altre marche appunto questo t2 della croce gialla di ancona che ho ricreato seguendo fedelmente le immagini messe a disposizione dal sito appunto della stessa associazione di pubblica assistenza partiamo appunto da questo t2 con questa colorazione originale anche perché a cavallo degli anni 60 fino agli anni 80 non vi era ancora una una regola che imponeva diciamo la colorazione delle ambulanze che poi sarà diventata bianca con le strisce catarifrangenti laterale e la scritta speculare sul cofano o sul tetto poi l'evoluzione sarà anche con il giallo fluorescente eccetera eccetera allora il t2 su base originale ovviamente ho assemblato la parte interna del vano sanitario con la sedia del soccorritore proprio dietro all'autista che diventava sedia portantina sganciabile il vano sanitario con la barella e la bombola d'ossigeno sotto il piano barella e la sedia del soccorritore laterale ovviamente la barella è rialzata dal piano sanitario perché perché i Volkswagen ecco dalla parte posteriore di caricamento appunto avevano il motore posteriore e quindi il piano sanitario il vano sanitario con la barella era leggermente rialzato dal pavimento per quanto riguarda invece il Volkswagen t2 lo stesso il problema di questo modello non essendo welly aveva a il metallo molto più molto più fino e quindi è stato un po più difficile lavorarlo soprattutto all'inverno di verniciatura perché perché la croce verde ho dovuto sganciare fare per fare una panoramica la croce verde di Civita Nova Marche che aveva in dotazione questo automezzo in una per dargli una seconda vita lo verniciò dalla colorazione crema originale ovviamente bianco in prima serie senza scritte tranne la parte posteriore del caricamento della barella con il logo e la porta laterale diciamo che la disposizione del vano sanitario era simile un po' per tutti i Volkswagen anche nelle serie successive come nell'altro ho applicato i lampeggianti la sirena in questo caso lampeggianti stampati in 3d e verniciati leggermente da aerografo così come l'aeratore sul tetto sirena fatta artigianalmente la fischio stessa cosa di qua la fischio è leggermente migliore perché ho avuto modo di stamparla forse la cambierò anche nell'altro i lampeggianti invece sono dei dei kit che adesso non ricordo nemmeno di che marca fossero adattati ovviamente sul tetto potete notare il terzo faro che all'epoca era molto in voga perché perché le prime ambulanze proprio le primissime ambulanze non avevano né sirena molto spesso con con l'avviso era fatto da una campanella ma anche quando iniziarono ad evolversi utilizzando la sirena a fischio difficilmente le prime avevano un lampeggiante sul tetto allora veniva previsto un terzo faro sopra il tetto lampeggiante che avvisava che il mezzo che si avvicinava era un'ambulanza poi ovviamente iniziarono con il lampe con il lampeggiante centrale i lampeggianti sul tetto doppi e poi l'evoluzione delle nostre i nostri automezzi con 3 4 lampeggianti dal giro faro girevole alle strobo poi ai led eccetera eccetera quello che conosciamo tutt'oggi spero che questo piccolo video vi sia piaciuto grazie per il like vorrete lasciarmi vi ringrazio tanto